Ciao, sono il dottor Mauro Mottinelli, sono psicologo e psicoterapeuta e lavoro da anni in ospedale nei settori di oncologia e cure palliative a supporto di persone sorde. Voglio chiedere il vostro sostegno per noi psicologi che usiamo la lingua dei segni e supportiamo i pazienti sordi ricoverati nei reparti, ripeto, di oncologia e cure palliative a cui forniamo sostegno psicologico nella fase terminale della malattia. I pazienti non hanno le risorse economiche sufficienti a coprire i costi dei nostri interventi di supporto psicologico e per questo vi chiedo di sostenere con delle donazioni il nostro lavoro di psicoterapia. Il servizio pubblico ad oggi non dispone di professionisti psicologi e psicoterapeuti che usano la lingua dei segni e per questo motivo chiedo, a costo di ripetermi, il vostro sostegno. Noi già abbiamo fornito il nostro aiuto al massimo delle nostre possibilità. infinitamente grazie da parte nostra e anche da parte dei pazienti sordi per le vostre donazioni. Un caro saluto.